Al Comune di Battipaglia il bando per assumere quattro caschi bianchi. Nuove opportunità di lavoro per diplomati presso il Comune battipagliese che ha indetto un concorso pubblico per quattro agenti di Polizia Locale. La selezione pubblica prevede assunzioni a tempo indeterminato e pieno e la macroscruttura autonoma del Corpo di Polizia Locale. Requisiti, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e civili, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decatuti da un impiego statale. Regolare posizione dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo, assenza di condanne penali né di procedimenti penali in corso, adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza della lingua inglese. Inoltre si richiedono i seguenti requisiti specifici, non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militari organizzati o restituiti da pubblici uffici, non aver subito licenziamento disciplinario per giusta causa dall'impiego presso una pubblica amministrazione, idoneta fisica, psichica e attitudinale al servizio della Polizia Municipale, diploma di scuola superiore di secondo grado, ed ha compreso tra i 18 e i 40 anni, patente di guida categoria B unitamente alla patente A2 in corso di validità. La domanda di ammissione al concorso per agenti di Polizia Locale del Comune di Battipaglia deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al bando e presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo pec.comune.battipaglia.sa.it. L'istanza di partecipazione deve essere presentata entro il 17 ottobre 2022.